Alessio Pignatelli scontra il vertice per la Marcutta Aspre che sfida di fronte al pubblico amico del trasporto insolato a Magnini la Virtus Latina. Quanto è importante questa partita? È già uno sconto diretto proiettato per i primi prossimi della classifica? Sì, penso di sì. Per la luce di quanto abbiamo visto fino ad oggi, le due squadre sono a punteggio pieno e ci affrontiamo fortunatamente in casa nostra. Ora cercheremo di vincere questa partita per rimanere da soli in vetta ma Latina sicuramente arriverà nelle prime della classifica a fine anno. Che settimana è stata quella per la Marcutta Aspre visto che non è rimasto molto soddisfatto della prestazione di sabato sconso contro la Roma Centro? Sì, è stata una buona settimana nel senso che ci siamo parlati e chiariti con le ragazze per quanto era la prestazione della settimana scorsa che non mi era piaciuta. E poi iniziata la settimana più che altro pensando a quello che era la partita che dobbiamo disputare sabato, quindi è un obiettivo molto importante e un livello di gioco che sicuramente sarà diverso. Bisogna prestare attenzione a questo Virtus Latina visto che ha cambiato tanto rispetto all'anno scorso e quindi è punta ad arrivare nei piani alti della classifica? Sono l'unica squadra che ha dichiarato di voler fare il passaggio in B2, dopodiché ti dico che loro hanno cambiato molto, nel loro sestetto sono rimaste solo due che giocavano lo scorso anno, compreso il libero sono cinque cambi e quindi è una squadra totalmente nuova. Hanno degli elementi buoni, rilevanti, che giocavano anche in categorie superiori rispetto alla nostra, ma noi siamo pronti, le abbiamo studiate e le aspettiamo belle agguerrite.